Ciao, tutto bene con te! Oggi siamo qua per un trucco, un trucco meraviglioso. Vieni con me! Nel video di oggi io voglio farti vedere un trucco meraviglioso. Lo sai come pulire il tuo materasso e lasciare lui veramente pulito a fondo, senza acaro, senza quell'odore di muffa? Questo è il video giusto per te che sei lì a vedermi adesso. Questa è una pulizia che facciamo o di primavera o di autunno. Ma io ho fatto questo video già che il mese prossimo arriva l'altunno così iniziamo a fare le pulizie di autunno. E per quello ti voglio fare vedere oggi come si fa a pulire il tuo materasso profondamente e lasciarlo bene igienizzato. Se tu sei arrivato qui per la prima volta ci ringrazio tantissimo. Benvenuta al canale, mi chiamo Marlinda e ti invito già a iscriverti qui su questo pulsante rosso e a cliccare anche su questo campanello. Così puoi ricevere tutte le notifiche di questo canale. Non dimenticare di fare mi piace questo video e di condividere questo video con i tuoi amici. Allora andiamo a fare questo trucco che è facile e veloce. Venite com'è. Per pulire il materasso usaremo il bicarbonato di sodio. E' facilissimo. Lo metti il bicarbonato di sodio qua sopra il materasso. Lo lasci per circa un'ora. E dopo con l'aspirapolvra lo pulisci. Ho messo il bicarbonato, vedi che c'è tanto. Allora lo lascio qui al minimo un'ora. E quando lui è qua tu vai a fare un'altra cosa. E dopo lo puliamo con l'aspirapolvra così il materasso rimane bello igienizzato. Però volevo anche dire se tu hai un materasso come questo del figlio del mio marito. Che lui c'è io posso togliere questo. Io non lo pulisco qua su come quello che faccio nel mio. Questo lo lavo in lavatrice. Questa parte. E il bicarbonato lo metto in lavatrice. Lo metto mezza tassina di caffè di bicarbonato di sodio. insieme al sapone per lavare. E così rimane anche lui igienizzato. Ho lasciato un'ora in mesa. Vedi com'è bello pulito. Ho tolto tutto con l'aspirapolvra. E dopo che tu fai questo il materasso rimane igienizzato per sei mesi. Puoi fare questo due volte all'anno. che esce benissimo. Il mio qua faccio così. E' sempre bello. E' bello anche cambiare l'altra volta che tu vai a fare. Cambi il materasso al contrario così è pulito delle due parti. perché ti aiuta tantissimo. Vedi che lì posso mettere due camicie insieme.